Che laica a Stoccolma in patria, lui che è cresciuto nella squadra di casa del nord 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 della Svezia, Kiruna, qui c'è il sudafricano Clarence Mugnay, la quarta su cinque, fra le tempi di ripescaggio possibile, 21.35 il migliore, Kosse Nguan, Corea del Sud, 21.47 Mofa Drangiru, Kenya. Musa Ali Issa Bahrein, 21.53 E poi un improbabile Li-Gyu Kiong, 21.84 Ancora Sudafrica, che sta crescendo in maniera straordinaria dopo il risultato complessivo, fa 20.41 con un metro e due di vento contro, è vero che ha corso come un ossesso per tutta la gara, quindi non si è risparmiato granché. Ma Clarence Mugnay fa questo gran bel risultato. Mugnay Arriva molto vicino al suo primato che continua ad essere 20.36 All'esterno Cameron Tindall Ha fatto 20.78 sul primato Tindall, che aveva... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.